Ben tornati sul canale, oggi Patrick vi ha portato a uno showroom Ragazzi, un minuto di silenzio Patrick Super Cars La bellezza in persona, esclusivamente in carbonio, Carbon Edition Allora, oggi vi ho portato a uno showroom esclusivo qui a Dubai, il più esclusivo Dietro di me ho una Konistag Agera R, allora, che cos'è Konistag? Konistag è una tua vettura svedese, una ipercar svedese, presentata nel 2010 Ma prodotta dal 2011 al 2018 E questo è lo showroom che ha l'esclusività in Dubai per venderle Dietro di me ho la versione Carbon Edition, quindi è limitatissima Ve la faccio vedere, come on baby Ragazzi, vi do un po' di info tecniche perché davanti a questa macchina sono molto emozionato Qui siamo su livelli molto alti Allora, dovete sapere che durante le fasi di sviluppo La macchina era dotata di un V8 e da 4.7 litri, ok? Con doppio turbocompressore a geometria fissa Poi in seguito viene sostituito con un V8 biturbo da 5 litri La genera deriva dalla precedente versione CCX Ed è stata presentata nel 2010 al Salone di Ginevra Il traio è completamente in fibra di carbonio La versione standard può erogare 960 cavalli 0-100 in 3 secondi Una velocità massima dichiarata di 3,90 km orari Praticamente un aereo su strada Parliamo di questa versione davanti a me, tutta in carbonio Questa è la Gera R Mi sento male Praticamente questa qua ha 1170 cavalli Introdotta nel 2011 0-102 secondi e 8 E velocità massima di punta Qua, attenzione eh 440 km orari 440 km orari 440 km orari Questa qui è una delle 18 al mondo prodotte Avete capito bene Una di 18 Nel 2011 la macchina ha fatto un record mondiale 21,19 secondi 0-300 km orari È stata abbattuta nel 2015 dalla Coniseg One 1 La Coniseg è stato il primo produttore di Ipercar A compiere passi verso la tecnologia verde Con il lancio del biocarburante La Gera R ha un sistema di gestione del carburante E del motore aggiornato Che gli consente di funzionare tra 95 ottani E biocarburante e 110 Cioè praticamente questo è un gioiello di tecnologia A quattro ruote Questo è Dubai Patrick Supercarz Patrick Supercarz Adesso che abbiamo parlato Ora ci divertiamo Ora arriva la magia Dai